Pronti a collaborare con la Regione Calabria per possibili azioni di riqualificazione e di ripristino delle condizioni ottimali di vita per l'habitat presente sull'area, sia direttamente che indirettamente interessata dagli impatti dell'impianto di San Sago, al fine di immaginare azioni congiunte di bonifica e valorizzazione da mettere in campo e da proporre per finanziamenti nazionali e comunitari. E' quanto sottolineato dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata in una nota inviata ai sindaci di Tortore Prea Mare e alle associazioni ambientaliste del territorio, un'azione congiunta attesa al recupero di un'area paesagisticamente di pregio in cui insistono molti siti di interesse comunitario e quindi da valorizzare. Una risposta, quella della Regione Basilicata, che arriva come una gradita sorpresa, soprattutto per gli ambientalisti che hanno subito invitato i primi cittadini di Praia Mare, Tortore e San Nicola Arcella a fare pressione sugli uffici del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, che ancora non ha risposto. Penso, ha detto il Presidente del Comitato di Bonifica dei Mari, dei Fiumi e dei Terreni della Calabria, Giovanni Moccia, che sia un'opportunità da non perdere, anche perché questo territorio vive soprattutto di turismo e un ambiente sano. Richiama gente. Inoltre, vedere due regioni che sono pronte a collaborare per la salvaguardia del Fiume Noce non è da poco. Soddisfatto anche il Sindaco di Tortore, Pasquale Lamboglia. Si sta andando nella direzione che sosteniamo, ha detto. Da tempo chiediamo uno studio di incidenza dell'impianto sull'intera area, approfondimento che non è mai stato effettuato dalla Regione Calabria, commettendo a nostro avviso una leggerezza. Ora c'è la possibilità di rimediare, di arrivare a delle conclusioni. In quell'area ci sono dei SIC, delle zone protette, quindi bisogna tenerne conto.